È fissata per il 15 ottobre la data che segnerà il termine dello smart working per i dipendenti pubblici. I lavoratori statali faranno quindi rientro in ufficio ristabilendo la modalità in presenza, per la quale sarà richiesto il possesso obbligatorio del Green Pass. Come annunciato dal decreto presentato dal Presidente del Consiglio Draghi e dal Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, il ritorno interesserà in prima battuta le figure dei front office e quindi i lavoratori che si interfacciano direttamente con il pubblico. A seguire sarà la volta di chi opera dietro gli sportelli e in parallelo le amministrazioni centrali e periferiche. La quota di personale che potrà rimanere in smart working non potrà superare la soglia del 15%. A Pesaro sono circa 200 i dipendenti tra provincia e comune che sono pronti ad abbandonare il lavoro agile, adottato dai diversi enti pubblici a seguito dello scoppio della pandemia. Sul rientro in ufficio degli statali e su un eventuale sviluppo futuro del lavoro da casa sono contrastanti le voci e le opinioni dei cittadini, a partire da chi in questi mesi l'ha praticato. Sì, ho avuto esperienze, è nata molto bene, penso che sia una cosa che in Italia possa fare bene e vada introdotta più spesso. E ora quindi che i dipendenti pubblici dal 15 ottobre torneranno in ufficio, cosa ne pensi? Penso che anche questo sia giusto perché comunque sia il contatto fra persone può aiutare il lavoro, mentre da casa è più difficile, però lo smart working servirà perché amplirà molto di più il tempo di lavoro e aiuterà molte persone, diciamo. A casa non so se uno rende come quanto è in ufficio, insomma, visto che poi li paghiamo noi questa gente, quindi è giusto che anche loro si presentano sul posto del lavoro. Ho fatto bene farli lavorare da casa perché tanto con la pandemia è stato giusto così restare a casa per evitare i contagi, ma piano piano la situazione sta finendo, si spera di tornare alla normalità. Sì, sì, giusto tornare in ufficio, tutti al lavoro. Una cosa positiva del Covid è stata la scoperta di lavorare comunque a casa. Su alcune attività sono favorevole, ovvero una percentuale di ore, magari un giorno, una settimana, credo che sia utile, magari alle mamme che hanno qualche bambino, insomma, alle persone che possono comunque dedicarsi al lavoro, anche perché si dovrebbe andare, a mio avviso, per obiettivi, cioè sì, lavoro a casa, la preoccupazione è, ma chi li controlla? Va bene. Quella persona avrà comunque degli obiettivi da rispettare, per cui può lavorare a mezzanotte come alle 5 del mattino o come quando vuole lui. Una partecipazione a casa, secondo me, di sicuro va regolamentata, ma va effettuata.